Stefano Tamiazzo, direttore scuola internazionale di Comics. Se esiste un limite per una matita vista la strage di Parigi, qual è questo limite? Credo che sia un limite personale. Il mio è completamente libero. Io penso che si possa parlare di qualsiasi cosa. Poi si può non essere d'accordo, si può non comprare una rivista, si può decidere di boicottarla, di criticarla, però non c'è secondo me un limite vero. Come avete vissuto la strage di ieri, soprattutto qui all'interno della scuola con i ragazzi? Per me è stato un vero colpo perché in realtà con una delle persone uccise, che è Wolinsky, una dozzina di anni fa lavorando per editori francesi ho avuto l'opportunità di conoscerlo, una cosa abbastanza comune nei festival. A volte, soprattutto quando i disegnatori sono di un'altra generazione, nel caso di Wolinsky è stato ucciso a 80 anni, per me era uno dei miei eroi, l'ho potuto conoscere anche se solo per lo spazio di un pranzo, come si fa ai festivali, incontrandosi normalmente. È stato veramente un colpo tremendo se si decide di sparare a chi fa delle vignette così freddamente. E per i vostri ragazzi che appunto stanno affrontando, si stanno affacciando su questo mondo? Forse è una cosa ancora molto distante per loro perché è ancora un approccio al lavoro, cioè come dire una frequentazione che è ancora legata più alla lettura e anche se stanno cercando di fare qualche cosa che poi li porterà a fare, a scrivere, a disegnare delle storie, sicuramente è visto ancora come un fatto di cronaca brutale, ma un fatto di cronaca comunque. Grazie.